buongiorno ad obiettivo news oggi 7 settembre santa regina di elise e della giornata internazionale annuale di aria pulita per il cielo blu considerato il più grande rischio ambientale per la salute di questi ultimi tempi l'inquinamento atmosferico comportare ictus malattie cardiache polmonari malattie respiratorie come la polmonite e cancro l'inquinamento atmosferico proviene da una miriade di fonti tra cui impianti industriali industria estattiva consumo energetico domestico veicoli incendi boschivi e commozione dei rifiuti per affrontare l'inquinamento atmosferico i governi devono attuare leggi e incentivi che consentano di sbloccare gli investimenti in aria pulita in tutti i settori la giornata mira sensibilizzare a facilitare le azioni per migliorare la qualità dell'aria un appello globale per trovare nuovi modi di fare le cose per indurre l'inquinamento atmosferico che causano a garantire tutti ovunque possono godere del diritto di respirare aria pulita